Presenta tuo padre con tre aggettivi Buono, un po' rompicoglioni e determinato Bravo, generoso, bambacione Qual è la capitale della Macedonia? Oslo, Tirana, dell'Albania l'ho detto Scopie A quale arcipelago appartiene l'isola di Ventotene? Campano penso Pontine Chi ha più successo con le donne, tu o lui? Io senza dubbio, a parte lui essendo un uomo sposato è un po' arrugginito Quindi non penso riesco più a rimorchiare una ragazza Questa è simile alla domanda, è meglio Maradona o Pelé? Due epoche di vera, lui è più bello sicuramente Cosa diresti a una donna in inglese? Hey, you are very beautiful I love your eyes Where are you going tonight if you want to do something with me? No, no, io ho già dato il mio meglio dicendo a una donna in italiano Non ho mire inglesi sulle donne Chi è più tirchio? Io, perché non faccio molta fatica a prestare i soldi Suppongo io Chi è più spendacione? Io sono molto più spendacione perché non mi riguardo quando c'è da spendere Va da conseguenza, suppongo lui Se fossi un ricore, compreresti la Lazio? No Il mio cofanetto dei sentimenti più rari e più intensi è sicuramente bianco celeste Farei tutto per la Lazio, non solo il presidente Il ricordo più bello che hai dell'altro Gregucci? Senza dubbio quelli passati in Sardegna durante l'estate Quando facciamo le gite in barca e andiamo a pescare insieme i ricci Quando è nato? È un'emozione, non ti so descrivere E io fino a quel momento ragionavo con io Massimo, io e il mio rapporto di coppia Da quel momento ho pensato Oddio, cosa farà? Oddio, cosa mangerà? Oddio Incominciamo a pensare già per terza persona Cosa ti fa più arrabbiare dell'altro Gregucci? Che è molto testardo Non cambia mai idea E quando pensa una cosa è quella per lui Quello che poi riscontro in una nuova generazione Cioè la sua Avere poca determinazione nel sapere dove andare Alla risposta cosa volete fare? Di solito Cioè Boh E a te Cosa ti fa più arrabbiare? Che a volte per le cose che faccio Anche in ambito sportivo Soprattutto il pallone potrei essere molto più determinato A questa stagione della vita penso nulla È la stagione della vita dove l'isterismo non paga A Londra Porterai l'altro Gregucci a? Vorrei portare a fare un giro con me la sera Nei locali notturni Per vedere come si comporta È un po' goffo appunto nel rimorchiare le ragazze A Wembley A una finale di Coppa di Champions League Con magari la Lazio Grazie! 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 Grazie!